Per quanto riguarda il BBO, mi può indicare che a fin di anno l'ho presentato al Parlamento il cambio di lei, di quale ora l'ho presentato, la fattura, la birra e la cobranza di BBO. Per chi conosceva questo, passo l'ultimo, ora l'introduzione del BFP. Abbiamo fatto un'introduzione con i bambini della comunità, abbiamo fatto un'introduzione con i bambini della comunità, e il fatto un'introduzione della comunità. qui è parte che non ha decidito ora e non è deciso si sta, che hai cambiato di fatto e quindi non lo faccio che un'ultimo è che la riconoscenza ha il Cattro a 13 di l'anti in questo punto e quindi per evitare qualche discussione ma arriva e parte ora abbiamo come come consumidor potrebbe pagare se potrebbe pagare 100 florini o potrebbe nessuno che ha cobrato 100 e 6 questa è una buona libertà e il commerciante paga la qual è che ha pago in maniera di stipulare la qual è la birra belastica mentre ci stanno anche c'è un cambio in cui si tratta il vostro rete e le aziende qui c'è un cambio e un cambio che ci stanno con il vostro rete ma non c'è un prodotto per non c'è un prodotto per non c'è un prodotto per non c'è un malo per la qual è la salute del pueblo in questo caso qui ci stanno in inglese è sin taxes per non c'è un'arroba per non c'è un'arroba per non c'è un prodotto di tabacco di alcoho per non c'è un'arroba non c'è un'arroba per 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 non c'è un'arroba non c'è un'arroba per non c'è un'arroba non si non lo vai denne saque.